Pronti? Però tu ti devi trovare un poco di pace, capisci no? Che non possiamo fare questa cosa sempre. Ingema secondo te adesso lui si sta. No però si gioca un po' con quel coso. Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Anche oggi sono qui con mio padre il dottor Giuseppe Cocca. Un saluto a tutti. Un po' di video fa avevamo parlato della dieta chetogenica e principalmente le domande sono state riguardo la relazione tra frutta e dieta chetogenica. Sarà possibile entrare in chetosi anche consumando frutta? Quindi in questo video andremo ad orridere tu però. Proprio mettili tutti. Quindi in questo video andremo ad analizzare alcuni aspetti. Che cosa ci puoi dire? Riguardo la dieta chetogenica e la frutta. È possibile andare in chetosi anche con un'alimentazione ricca di frutta? La prima cosa che dobbiamo domandare è cosa vuol dire o perché le persone vogliono andare in chetosi o trovare una dieta chetogenica? Andare a grassi. Perfetto. Allora la maggior parte delle persone con la dieta viene chiamata chetogenica perché nella dieta chetogenica fonte primaria di energia sono gli acidi grassi. Adesso la domanda che noi ci possiamo porre è un'altra. Quali sono i modelli di dieta che ci fanno andare principalmente ad acidi grassi? Ben sapendo un'altra cosa che andare ad acidi grassi non vuol dire andare sempre in una chetosi importante o in una chetosi di un certo tipo. Però questo casomai ne parliamo in questo video e un altro perché il discorso è un po' più complesso. Allora chetosi vuol dire utilizzare acidi grassi come fonte di energia. Ok. Una mia domanda al volo sarebbe anche perché? Perché c'è l'obiettivo di andare anche in chetosi? Quali sono i vantaggi? I vantaggi di utilizzare gli acidi grassi. Adesso qua dobbiamo tenere presente un qualcosa che abbiamo trattato in un video che è quello mangiare per lavorare o lavorare per mangiare. Ora qualcosa di questo genere. Quanto tempo fa l'abbiamo fatto? Non mi ricordo. Forse l'anno scorso. Forse l'anno scorso. In natura o nella maggior parte degli animali possiamo dire che gli animali mangiano. Nel momento in cui mangiano si caricano di energia, tra virgolette, e poi utilizzano in seguito questa energia per procurarsi ancora il cibo. Ne abbiamo già parlato. Questo funziona principalmente nei predatori o negli animali che fanno dei pasti abbondanti. Adesso la domanda che noi ci poniamo. Noi mangiamo come esseri umani. Noi come esseri umani mangiamo zuccheri principalmente, ma non sempre. Noi abbiamo mangiato zuccheri principalmente quando viviamo nella foresta. Poi abbiamo mangiato zuccheri, frutta, verdura e carne, noci e uova quando siamo stati nella savana. Poi siamo diventati pastori e abbiamo iniziato a bere anche latte. Poi siamo diventati agricoltori, prodotti della terra. Poi siamo diventati adesso posti industriali e mangiamo cibo, chiamiamolo posti industriali senza dare un'etichetta peggiore. Come abbiamo iniziato a funzionare dal periodo palio in poi? Si mangiava, si facevano dei pasti abbondanti quando c'era. Il mangiare serviva per ricaricarsi e fare il pieno di grassi. Nel momento in cui si andava a caccia o si andava alla ricerca del cibo, le persone erano a digiuno. Cosa vuol dire erano a digiuno? Che nel momento in cui cercavano il cibo non avevano mangiato perché qualsiasi animale dopo che ha mangiato non va alla ricerca del cibo. Alla ricerca del cibo ci vai quando incominci ad avere fame. A digiuno. A digiuno. E ovviamente la domanda è questo. Ma a digiuno si è più performanti, si è più forti o si è più forti dopo aver mangiato? A digiuno. Ma per molti invece noi abbiamo più energie dopo aver mangiato. Ma in realtà quando noi mangiamo noi produciamo insulina che è l'ormone che serve per mettere da parte tutto il cibo che abbiamo mangiato. È come se uno dicesse vado a fare la spesa, compro il cibo, porto a casa e metto in frigorifero, metto nei ripostigli, cioè metto nel freezer, metto negli stipi, metto nelle credenze. E poi mangio di quello che ho comprato. Ma ovviamente dopo che abbiamo messo tutto a posto incominciamo a consumare. La nostra credenza è il grasso. In questa società noi mangiamo troppo, nel senso che mangiamo e non diamo tempo al nostro organismo di consumare il grasso che abbiamo accumulato per il momento di carestia. Questa è una delle poche società che rispetto al cibo ha un'abbondanza di cibo innaturale. E questo ci porta a mangiare anche quando non abbiamo bisogno. Allora nella dieta chetogenica che cosa si fa? Facciamo una dieta chetogenica in cui togliamo gli zuccheri o li riduciamo drasticamente meno di 50 grammi al giorno e nello stesso tempo diamo una dieta normoproteica. Normoproteica vuol dire che se mangiamo più proteine del necessario vengono trasformate in grassi e ricca di grassi. Perché i grassi non determinano la produzione di insulina e non determinano quella fase che si chiama di accumulo. Cioè la dieta chetogenica è, chiaramente lo stavo dicendo in sommi capi, è quella dieta che non fa andare in accumulo l'organismo. Cioè che non ci fa prendere più grassi. Nonostante si mangi i grassi. Perché il nostro grasso viene dallo zucchero e viene dall'insulina. Abbiamo determinato che noi abbiamo un ormone, l'insulina, è quello che mette in credenza il cibo. Poi quando non c'è l'insulina noi consumiamo il cibo che abbiamo messo in credenza. Questo per chiarire che dieta chetogenica vuol dire una dieta principalmente che ci fa utilizzare i grassi come fonte di energia. Ma ricordiamoci che una dieta chetogenica seria non avviene subito. Cioè è un po' più complessa da fare perché molte volte il nostro corpo va a acidi grassi invece che andare a corpi chetonici. I corpi chetonici in grande abbondanza vengono formati soltanto quando facciamo un digiuno o facciamo delle diete chetogeniche di un certo tipo. La domanda era ma se io mangio della frutta posso andare in chetosi? Sì. Allora la prima cosa che vogliamo dire anche secondo la chetogenica ufficiale 50 grammi di zuccheri si possono mangiare. 50 grammi di zuccheri se 100 grammi di frutta contengono mi sembra 10 grammi di zuccheri già sono mezzo chilo di frutta più o meno e per questo abbondantemente mezzo chilo di frutta. Spero di aver fatto bene i calcoli ma non è questo il discorso. Noi andiamo in chetosi utilizziamo i grassi di riserva anche quando facciamo dei digiuni intermittenti. Sì l'ho notato un sacco. Digiuno intermittente vuol dire che diamo più tempo più spazio da un pasto ad un altro. Cioè cosa vuol dire nel momento in cui vi è più tempo o c'è uno spazio maggiore tra un pasto e un altro il nostro organismo è costretto specialmente se ha la strada spianata a utilizzare i grassi come fonte di energia sapendo che noi abbiamo pochi zuccheri stipati all'interno del nostro corpo. Noi abbiamo pochissimi zuccheri nel sangue, 100 grammi nel fegato e 400 grammi nei muscoli. In tutto dovrebbero essere penso 2000 calorie di zuccheri stipati nel nostro organismo che è quasi un niente specialmente per chi fa attività fisica. Questo vuol dire che se noi abituiamo il nostro corpo o a mangiare di meno, se una persona mangia di meno cioè tra l'altro fa una dieta ipocalorica va in chetose o utilizza gli acidi grassi come fonte di energia a prescindere da quello che mangia. Se una persona associa ad un digiuno intermittente un pasto di frutta e verdura dopo che è abituato può ancora utilizzare gli acidi grassi come fonte di energia. L'unica cosa è questa che la frutta è un alimento molto particolare, a cui la maggior parte delle persone non è abituata. La maggior parte delle persone quando parla di frutta pensa anche che il succo di frutta sia frutta, che anche la frutta cotta sia frutta. In realtà la frutta è soltanto quella cruda, possibilmente di stagione. Cioè la frutta è frutta fresca e migliore la qualità e più è fresca e più la frutta contiene micronutrienti fondamentali per la nostra salute. Giusto per stringere, una persona può fare una dieta chetogenica, chiaramente poi va personalizzata perché dipende dallo stile di vita, facendo ad esempio, molti nella dieta chetogenica per esempio fanno un pasto al giorno, si può fare una dieta chetogenica con due pasti al giorno in cui il pasto, quello dell'una alle due, è un pasto crudista con frutta e verdura e poi la sera il pasto della tradizione che uno vuole fare per entrare nella chetogenica, sapendo che per esempio per entrare nella dieta chetogenica non è fondamentale mangiare soltanto carne e uova, soltanto che il discorso va leggermente personalizzato e sapendo che una buona parte delle persone non riesce a gestire farinaci, specialmente di cattiva qualità, una volta al giorno. Quindi quello che molte persone pensano è che il grasso faccia male, il grasso nell'alimentazione di tutti i giorni, mi stai dicendo quindi che non fa male? Assolutamente no, allora rispetto al grasso mi sembra, sì abbiamo fatto un piccolo video dedicato, dobbiamo sapere che quando noi parliamo di grasso, il grasso è il modo che gli organismi viventi hanno trovato per accumulare le energie derivanti dagli zuccheri, è come se fosse una batteria, cioè quando noi parliamo, diciamo una cosa di questo genere, noi possiamo sopravvivere con le nostre riserve di zuccheri, siano un giorno e negli altri giorni di cosa sopravviviamo? Di grasso. Sopravviviamo grazie al grasso e alle proteine, sapendo anche che grazie al grasso e grazie alle proteine costruiamo lo zucchero che ci serve per continuare a vivere, perché noi abbiamo bisogno anche di una certa quantità di zucchero. Però questo vuol dire anche un'altra cosa, che il nostro organismo è riuscito a fare delle riserve di grasso che ci dà energie per mesi e nello stesso tempo nel grasso c'è anche una riserva di zucchero grazie al glicerolo. E tradotto, noi riusciamo a sopravvivere benissimo con le nostre riserve. Chiaramente non per anni e anni, però possiamo vivere per lunghissimo tempo delle nostre riserve. La domanda è, ma se l'organismo ha elaborato delle riserve per sopravvivere nei momenti di carestie, può aver mai creato delle riserve il grasso che è tossico per la nostra salute? Ci saremmo già istinti. Ci saremmo già istinti. È ovvio che queste riserve sono il modo più intelligente che abbiamo per utilizzare le energie. E la cosa interessante è anche questa, perché se no non si comprende. Voi vorreste incontrare un orso, dopo che ha mangiato, che va a zuccheri o un orso che non mangia da qualche giorno e che sta dando ad acidi grassi e a chetoni? E che è a digiuno. E che è a digiuno. E' ovvio che se è a digiuno e ad acidi grassi e a chetoni ha molta più energia, ha molto più fiuto, è molto più aggressivo, molto più intelligente ed è molto più pericoloso per noi. Ha più fame, per dirne una banale. Sì, ha più fame ma ha anche un carburante migliore per avere le energie per potersi procurare il cibo. Più lucido quindi anche. E' anche più lucido. Io per questo non riesco a comprendere. È ovvio che quando una persona va, è ovvio ma non per tutti, quando una persona va a grassi è molto più lucido. Voi pensate perché i mistici del passato, scienziati del passato volevano digiunare? Perché attraverso il digiuno entrava in uno stato di chetosi che li rendeva molto più lucidi mentalmente e più prestanti fisicamente. Anche i monaci in Tibet fanno i periodi di digiuno. Allora, allora, cioè, cosa vuol dire? Che quando utilizziamo il grasso e i chetoni come fonte di energia siamo molto più performanti. Però c'è una cosa, questo è un processo graduale. Una persona non si può svegliare la mattina, faccio il digiuno, faccio questa dieta e avrò più energie. Non funziona così. Non funziona così. È un discorso graduale e la cosa più importante è che bisogna sapere come fare. E magari le prime volte essere seguiti. E le prime volte, o studiare molto, essere seguiti. Ok. Siccome vedono i nostri video persone di tutti i tipi, diciamo, non sappiamo qual è il loro punto di partenza. Per quanto riguarda le persone sotto peso? Come si potrebbero approcciare al digiuno? Allora, pochi giorni va bene per tutti. Però bisogna sempre comprendere perché è sotto peso, perché mangi in un certo modo, perché ho paura del cibo. Bisogna sempre comprendere che il peso è legato a qualche altra cosa. Quindi anche poi capire la motivazione per cui si sta facendo il digiuno. La motivazione è il digiuno, motivazione è sotto peso. Se è un fatto di testa o se è un fatto anche di cuore, tra virgolette. Perché molte persone vogliono con la testa risolvere delle cose, però se il cuore non è d'accordo, se dentro ci sono dei conflitti, è meglio fermarsi un attimo. Io in genere raccontavo questa storia, la racconto spesso. Quando una persona mi telefona, dottore, io devo digiunare per forza? Quello è il momento che dico non è il momento. Perché devo è troppo testa. Mentre se una persona vuole fare un digiuno e ha una leggera perplessità, vuol dire che è centrato. Nel senso che voglio fare, però devo valutare quello che succede ed è completamente presente. Ma se uno non ascolta l'interno ci sono delle problematiche. Io prima quando ho fatto il mio primo digiuno, io ogni giorno pensavo, sì, va bene. Abbiamo fatto il video sui tuoi 30 giorni di digiuno. Anche perché non l'ho mai visto nessuno, ho letto soltanti libri, la cosa non era molto. Però pazzi ero troppo giovane. C'erano anche video su YouTube che potevi vedere. No, non c'era niente. Avevo tre libri sul digiuno, belli. Di scelto. E poi tutti gli altri libri di ricette. E poi tutti i libri di ricette che leggevo ogni giorno. Perché la fame era più mentale, non era una fame fisica. Sì, questo l'ho notato anche io. Che hai voglia di mangiare. Allora, giusto per concludere, noi possiamo fare una dieta chetogenica anche con la frutta, ma bisogna sapere come fare. Chetogenica intendo in questo momento, con utilizzo principale dei grassi o degli acidi grassi come fonte di energia e del glicerolo che viene sempre dal grasso. Per invece, sulla dieta chetogenica ci sono, non so se lo faremo in seguito perché il discorso è un po' più complesso, non sempre utilizzare i grassi come fonte di energia vuol dire andare in chetosi. Però ne parleremo in seguito. La cosa importante è sapere che ogni volta che mangiamo meno di quello che ci serve per, diciamo, come fa bisogno di un tetto calorico, il nostro corpo utilizza gli acidi grassi come fonte di energia. Necessariamente meno o anche la stessa quantità, ma concentrata in un pasto? Ecco, allora, quando noi parliamo di cibo, la risposta al cibo dipende sia dalla frequenza dei pasti e sia dal fatto, se noi diamo, quando una persona fa il digiuno, il digiuno intermittente, il nostro organismo nel momento in cui non mangia è come se facesse due cose. Uno, le pulizie di casa, che possiamo chiamare anche l'autofagia o l'autolisi nel modello igienista. E poi si prepara, quando non mangia, a guardarsi attorno per procurarsi il cibo. Perché dobbiamo tenere presente che durante il digiuno, nella fase in cui non introduciamo il cibo, il sistema si pone due obiettivi. Uno, riparazione interna. Due, cosa posso fare? Procurarmi il cibo quando avrò fame. E per fare il secondo passaggio, cosa fare per trovare energie? Siamo pieni di energie. Se siamo nella fase di riparazione interna, invece, abbiamo meno energie. Cioè, la risposta al digiuno è personale, dipende da quali sono i bisogni del nostro organismo. Se il nostro organismo ha più bisogno di riparazione interna, allora abbiamo poche energie. Se invece ha bisogno di recuperare, si guarda attorno, abbiamo più energie, si è più prestanti anche fisicamente, anche facendo sport. Ok. Sì, sì, sì. No, perché facevi l'esempio, dicevi che mangiando meno, meno calorie, però dipende. Ti portano ad anno, magari mangiano le stesse calorie, solo le concentrano tutte in un momento. E questo non so l'avevato, perché il discorso è sempre abbastanza, non dire complesso, articolato, che piace molto. Chiaramente la stessa quantità di cibo, il modo con cui l'organismo risponde al cibo, dipende. Giusto per uno, da cosa penso rispetto a quello che sto mangiando? Mi sembra che ci abbiamo fatto un video. Due dipende, la sequenza. È diverso, per esempio, se io mangio frutta, insalata, verdura cotta, piatto cucinato, piatto cucinato, verdura cotta, insalata e frutta. Cioè, se faccio una cosa diversa, sembra la stessa cosa, dice, ma va nel corpo nello stesso momento. Cioè, in realtà il corpo reagisce in maniera diversa. E poi, se io lo stesso pasto e lo fraziono nella giornata, il corpo risponde in un modo. A secondo di come lo fraziona la giornata, se faccio dei digiuni lunghi, per esempio faccio un pasto al giorno, il nostro corpo risponde in maniera ancora diversa, però è personale. Personale dipende da quello che penso, da quello che ho fatto durante la giornata, qual è il nostro stato di salute. Cioè, sempre per dire, la risposta è personale. Quindi, bene, possiamo concludere qui il video. Questo era il video sulla possibilità di andare in chietosi anche con la frutta. Se avete domande, fateli qua sotto nel box informazione e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti! Un saluto a tutti!